Mi dice sempre di quelli di prima, di quelli di prima, di quelli di prima, di quelli di prima. Oddio no, è travestito, vedi? Ripigliala, ripigliala, che questa è la persona anziana. Come vi chiamate? Come vi chiamate? Come vi chiamate? Come ti chiami? Beh, il nome scritto è Francesca, però... Ma come ti chiamano? Cecchina. Cecchina, come ti chiamo? Cecchina proprio con il figlio. Quanti anni hai tenito? Eh, anni non... Non si dica, non si dica. Chi te lo mangia? 154. Una creatura, proprio. Sì, 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 grazie. Una creaturella. Come ti chiami? Chi sei? Io mi chiamo Claudio. Ma te... Vengo da Cassino. Ah, io mi chiami Claudio. Sono contento. Curi. I gradi tutti benissimo. Oh, grazie. E' una vita che non facevano complimenti. Sì, sono tutti belli. Dì un po' perché? Perché? Ah, ecco. Perché sono tutti belli? Dì un po'? Perché si chiamano Claudio, sono tutti belli privati, belli. Ah, ciao, Ralli. Come do? Sto congelato. Ben arrivato. No, boi, non mi regolò così. E che figlio, mi puoi vestire o no? E che figlio di Daniera. Ah, che figlio. Ah, no, no. Bene. Non ti è bene. E... Ma guarda, chissà di prima. Chissà di prima. Chissà di prima. Eh, lo so, lo so. Allora, come si vuole rendere a tutti quanti? Eh, tutto bene, tutto bene. E questa è nel posto. Ti ti familiano. Eh. No, grazie, 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 grazie Ok, genziana? Sì Un goccio Grazie